TACFUL18 ti spesso non ci credo mi arrivi da un sacco nooooo mi ha fatto uscire salut amici di TUNE fuon use devolver benvenuti in questo nuovo video ogi ragazzi siamo qui in questo nuovo video di Call of Duty MW 2 in una partita in team that нужно nella mappa estate E sono in compagnia di Pagno No Che ha già partecipato nel precedente episodio Se non sbaglio il precedente era quello la No no Nel quinto episodio se non sbaglio di Call of Duty Nell'episodio tutti contro tutti Che faceva il cecchino camperone Pagno sempre Il camperare col cecchino Aspettiamo che parte la partita Che come al solito ci mette anni ed anni Ah io sono già dentro Te con che classe vuoi giocare? No ovviamente Oddio questo qua vuole fare i quickscope con l'M21 Vabbè Chi era quello di secondo te? Sei te? Sì Cioè vediamo che devi la mira e Oh mio dio vabbè nel frattempo giochiamo Perché è meglio giocare Allora vediamo ragazzi perché oggi sto testando Una classe ovvero ACR silenziato Ho visto una granata E mi hanno ammazzato Io non miro Io non miro Ragazzi devo sapere che non giocherò un sacco al code Io devo sclerare Faccio l'assist Ecco E' un ammazzato pure a pagno Pagno di terra quanto tempo non giochi al code Dall'ultima volta Madonna santo Ok intervention time C'è lui col cecchino Subito Nanananananana Magiaio Ah cos'è ma Soltello Allora vediamo se sta campanando qualcuno qua No Sono tutti dall'altra parte della mappa Perfetto Io ho il predator eh Minchia di già Eh Guarda la doppia Finiscio Qua c'è qualcuno Eh la Sono tutti là davanti eh Sì lo so Oh mi hanno smirchato Uh headshot Uh altro headshot E siamo al secondo headshot Non c'è nessuno Aiuto Devi riprendere Là in fondo Là in fondo Qualcuno attiva l'UAV Grazie UAB Aumento e refresh Nell'UAV Aia Aia Mi hanno mancato Perfetto Allora qua Forse Ho la minima idea Di cosa fare Oh C'è quel tizio Che camper ha No dai Ma come l'ho fatta A prendere A vero Almeno farò qualcosa Con martirio No Inutile Perfetto Eh Ragazzi Vediamo cosa disco Ciao Io ho la No faccio l'uno con la granata Fa un po' sta la gara Che disco solo una cosa Ho finito le munizioni per l'intervento No 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 Dai ma Non dico tanto Però questo che se ne sta a camperare col visore termico Vergugnate però No Che bastardo No Forse lo posso aggirare No 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 Sto facendo Sto facendo 12 e 1 Ho trovato uno con il coltello di merda No 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 Non cambiamo con questo Dove c'è Eccolo Eh Vabbè Non tutti dietro la casa Comuncora No L'ho smiocciato Oh Avvisami quando Manca tipo Una o due kill Sì sì ti avviso Vabbè Mò stiamo stravincendo Io sto facendo 6-5 Più o meno Attento Nei uno sopra Eh l'ho notato Ecco me Ho un'idea Ok Io ho un'idea Spredator Inutile Aia Mi hanno smitragliato Aia Mi hanno visto No Ho sbagliato il colpo Chi ti ha perso Come faccio a prendere il palo della finestra Cioè guardate la sfiga Solo No Ho smicciato Oh no Lugger Ho scato un colpo Dopo un anno Mi ha preso l'uccisione Allora Allora No Ho preso Predator No Oh no Tra il mio No No col tubero Maledetto La pagherai cara Per quello che hai fatto Lurido No Hitmarker Dai Hitmarker Col Predator Taunter E Oh ok Cioè guardate Questi qua fieri Con bling Che hanno mirino E tubero Proprio La vergogna Cioè povera Cioè povera No Tubero Eh Vabbè Stanno facendo un giro Sto stanza Eh No Uh Edishot Ed Come l'ho pronunciato Edishot è fantastico Comunque Edishot Pagno Pagno San è sempre più in gamba Qua E noi non giochiamo da un sacco di tempo Eh Vedete noi come giochiamo Non ho smirciato Ma qualcuno mi è morto accanto Eh Siamo che l'ho ucciso io Quel tizio Ok È tempo della chica No Alla uno Dai mori No Questo con Painkiller Non moriva Attento Magno Si è rimasta Settimela e cento Eh l'ho notato L'ho notato Pancemi la granata Uh No Non vedo il punteggio Il quattro Settimela e quattro No L'ha fatta Magno Che fatto Di culo Di Cioè Non ho fatto niente Di culo Sè Il secchino che Sembrava che mirava a sinistra Lo le ho E l'ha preso Vabbè ragazzi Che vi posso dire Lo 16 9 Pagno 25 5 Partitona Che vi posso dire ragazzi Da Tagfu19 è tutto Spero che vi è piaciuto il video Compagno Ciao a tutti Ciao Ma che Cap Acqua Ma Quella Lava